In tanti ci avete chiesto per quale motivo all'inizio di gennaio siamo scomparsi da youtube e non abbiamo caricato per alcune settimane E adesso è arrivato il momento di svelarvi la verità Quindi per capire quello che è successo dobbiamo tornare indietro nel tempo all'inizio di quest'anno Non so quanti tamponi ho fatto ma questo è diverso dagli altri Le istruzioni sono solo in tedesco ma si può Drücken sie die rochenwand Che schifo, pio di cacole Aspettiamo 10 minuti e vediamo il risultato Due lignette vuol dire che è positivo In serio? Sì Questo è un bel casino Cioè io devo stare 10 giorni dentro a questo Cioè è grande come un mini tappeto sta stanza Giusto adesso mangerò come i carcerati vediamo Questo è il mio pranzo Assurdo Questa è la mia vita adesso La cosa ironica è che la finestra di camera mia ha le sbarre quindi sembra veramente di essere in una prigione Mannaggia Cos'è che si può fare? Ci sarà qualcosa Ballare? No ti prego posso finire a ballare da solo in una stanza Vedete questo? Ho deciso di riguardare per tipo la nona volta nella mia vita la serie di Harry Potter Allora rendiamo Cado, cado Non c'è spazio Rendiamoci conto Io ho chiesto del dentifricio Non mi sembra una richiesta incredibilmente complicata Questo è ciò che mi hanno portato Quanto mi dura questo? Mi stanno portando i loro rimasugli Questo è schiavismo puro Io ho fatto un tampone molecolare e sono risultato negativo quindi posso uscire dalla quarantena E infatti ho subito sfruttato l'occasione per andare in questo posto magnico Quindi io sono qua mentre qualcun altro diciamo che si trova ancora in isolamento Uè bello Cos'è che hai fatto oggi te finora? Mi sono appena svegliato Cos'è che stai mangiando? Pasta e pomodoro ormai stenta Bello Hai visto io cosa ho mangiato? Un bello stinco con polenta e funghi Hai visto quanto è grande? Madonna mia Cosa? Vecchio ma non è bello Ma come non è bello? È uno stincozzo gigante Sembra certo Abbiamo preso una polenta e funghi E poi uno si abbia cagato nel piatto Ma cosa vuoi? Ok devo rendere quella di oggi la giornata più epica Non è possibile che Fred sia in montagna E io Qui La prima attività super divertente di oggi sarà Mettere a posto l'intera camera Divertentissi Cioè mio fratello in questo momento è in montagna a fare snowboard Io invece sono qui sul letto col fiatone Perché ho tirato troppo forte questo cuscino Basta lamentarsi Cos'è sta roba? E questa è la mia cena Facciamo spazio per quello proprio Che schifo Il mio fratello oggi ha mangiato lo stinco La polenta I funghi E io vomito di troll Mi sono chiuso in una stanza Da una settimana Ho appena fatto il test e a quanto pare non posso uscire ancora dalla quarantena Cioè quindi non posso farmi la doccia Esatto Ma porco schifo Tu hai la doccia E devo farmi la doccia nei lavandini Tu hai idea dell'inferno che mi stai facendo passare? Ma sei andato a snowboard Ma cosa vuoi? Io ho mangiato vomito di troll Bastardo Oggi accadrà una cosa un po' spiacevole Ovvero che mi devono togliere i denti del giudizio Quindi adesso sto andando a farmi operare Cioè piuttosto non so se vi ricordate come era messo mio fratello tempo fa Quando gli hanno tolto a lui i denti Era messo malissimo Io non voglio essere uno schifo come lui Però purtroppo sono costretto Quindi semplicemente spero di non ridurmi come quell'essere Distrutto madonna Come potete vedere Questo non è qualcuno che si sta divertendo Io invece ormai sono qua dietro da nove giorni I DF non sono mai stati messi peggio Ragazzi sono le otto e mezza del mattino E adesso finalmente potrò uscire da questa stanza E andare a farmi fare il tampone di fine quarantena Sperando sempre che sia negativo Incredibile Esiste un mondo qua fuori Ho appena fatto il tampone Non so il risultato C'ho il foglio qui Vediamo Ti prego Ti prego Negativo Sì 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 Torno alla libertà Grazie Guardate qua La libertà più assoluta Senti qua che aria pura Altro che quel putridume di stanza Abbaffa Guarda Guarda Guardali Stupide anatre Guardate cosa avete fatto alla mia scarpa Che schifo Prima cosa che faccio Appena esco di casa Per stare una m***a Sì ma sono bello Sono bello o no Cioè io per iniziare a registrare Devo essere bello Oggi è una giornata molto importante Nella vita del cosiddetto Fred Ci sarà l'esame della mia patente Cioè l'esame di guida In questo momento sta piovendo E secondo me in realtà è un vantaggio Perché non ci sono i ciclisti Che fanno il loro sport E mi rompo nei coglioni Io direi di lanciare una moneta E vedere cosa ne pensa il destino Testa Vengo promosso Croce Vengo bocciato No Il destino ha scelto Che mi arrò bocciato Dai adesso c'ho più ansia Cioè ti rendi conto Che se mi boccia Vuol dire che è come se mi dicesse Guidi male Ma come osa Secondo te cos'è la cosa peggiore Che puoi fare Una volta che ti siedi Per fare l'esame? Scorreggiare Fare una puzza di m***a Assurda Ti sfido a fare l'esame Della patente Con questo in tasca No Cioè io devo fare l'esame Della patente Con la m***a Vabbè dai ho capito È portafortuna in teoria È tipo il mio amuleto questo Il mio amuleto portafortuna Se mi cade Fanno Ma cos'è quella roba? Il mio amuleto Ci vediamo fra un paio di ore Quando Freddo ci dirà il risultato Non so se si faccia così Freddo ha appena finito L'esame della patente E sta tornando a casa Io non so il risultato Però so una cosa Ovvero che gli farebbe piacere Incontrare il suo grande idolo Ovvero Cristiano Ronaldo Arriverà Aprirà la porta E boom Ronaldo Porco due Sei cero Ma sei idiota te Bentornato Madonna santa Che paura Mi devi dire com'è andata Ma spiegamelo bene Quindi sediti sul divano C'era un trattore di m***a C'era Fermo la curva E io ero ai 70 Quindi ho dovuto inchiodare No E però l'ho presa Ho preso la patente Sai questo cos'è grazie a cosa? È grazie a questo È grazie a lui Ragazzi mi raccomando Sempre tenere i pezzi di cacca in tasca Oggi è capitato questo Vicino a me c'è una palestra Dove fanno arti marziali L'istruttore si chiama Paolo come me Si chiamano tutti Paolo E loro ho detto ma perché non vengono a trovarci? Gli ho detto ma potrebbero invece venire a fare un video no? Bene vediamo come se la cavano Judo No è una disciplina Jiu Jitsu Bravo quella Jiu Jitsu Lo so fare io Ma se venissi anche te a fare Jiu Jitsu? Ci può stare Cacchio Dopo qualche prima difficoltà nel metterci il kimono Eravamo pronti per una lezione di Brazilian Jiu Jitsu Devo picchiare lui? Possibilmente A proposito lui è Pablo Il maestro che ci insegnerà il Brazilian Jiu Jitsu Pablo e Pablito Pablito Va bene Si più offensione Voi sapete cos'è il Jiu Jitsu? Brazilian Jiu Jitsu L'arte marziale con kimono più recente La caratteristica principale è che si cerca di portare a terra l'avversario Per immobilizzarlo e neutralizzarlo Attraverso strangolamenti, live articolari, immobilizzazioni La mano della guardia, quella avanti Cerca di mantenere la distanza Se lui continua a insistere Per esempio Mettiamo un bel gancio destro Dai, vai Due contro uno Vedete cosa vado a cercare Per chiudere la distanza E da qua semplicemente mi lascio cadere Portando la mia spalla sul suo stomaco Boom Fa il blocco giusto Eccolo lì No, ho sbagliato No No, ho sbagliato Vai, vai, sei giusto Sei giusto Abbraccia le ginocchia Qua sotto No, ho sbagliato No, ho sbagliato Bravo No, ho sbagliato No, ho furia Pablito La differenza del Brazilian Jiu Jitsu Da qualsiasi altra arte marziale È che nel momento in cui io arrivo a terra Continuo a lottare E adesso andiamo a analizzare cosa succede una volta che sono caduto Da questo momento Il mio scopo è portarlo in questa guardia Si chiama guardia chiusa Da qua Anche se la sensazione comune può essere Che io sia in una posizione sfavorevole In realtà io da qua una serie di attacchi che posso applicare E lui in realtà è in difesa Quello che io faccio è lavorare con le gambe per fargli appoggiare un braccio a terra Nel momento in cui lui appoggia un braccio a terra Per me lui è vulnerabile Quello che farò sarà Blocco il suo polso e vengo su Mano con mano E mi lascio cadere indietro col petto incollato al suo braccio Lo porto indietro Eccolo lì È finito Questa tecnica si chiama Kimura Adesso ci sfideremo io e Pablito Che vinca il miglior Aspetta come era da qua Che disastro Non fai niente Se stai lì sei l'impalato Madonna mia Madonna mia Attenzione Attenzione Vai Non è stato successo Oddio 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 Contra gli atteni Buttano i miei microfoni Continua Attenzione Alza la gamba Alza la gamba Cambo Corre Ma questa è una mossa di jiu-jitsu Non ho mai finalizzato nessuno di crampo Certo che il crampo te lo sei creato da solo Bene ragazzi spero che il video di oggi vi sia piaciuto Volevamo ringraziare Pablo per averci ospitato nella sua accademia Noi ci vediamo settimana prossima Ciao